hai ragione, tu sei 10 gradi, non è vero, non è un caso di pubblicare, sono ancora a portare parte e portare in toccato e sono seguita a questi chileteri stai dentro lì guarda, questo è un modo strano, bisogna girerlo da dentro per sapere si viene anche i sigli, la trena